Windy Landscape, esattamente, identica, eh Ah, ho capito I Windy Landscape non ci morivano, la facciamo occhi chiusi, davvero Tsuglo Uchi devo morire, perché ne sono stronzo Comunque lo dirò, eh, che la parte più difficile è l'inizio del suo livello, però Per me è stra difficile la shift, perché è fantastico Quale? 5, 8, 8 No, 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 free, boa Bo Tutto, 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 para, pa, boom, bo 11 Maglio Guarda che sono la bolla Ringy Landscape, pata Ui Brake Brake time Duol Andres, sono il direct hand del meta livello del robot Sono da lontano 55 Ma porca No F***a